Anche qua il legno chiaro cresce come i funghi Porcini In un tempo di sole Benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo ritornati nella serie di Minecraft Ita Con il quindicesimo episodio Quindi tanti pollicioni in su Arriviamo a 15 like per un prossimo episodio Quindi condividete e attuate la campanellina Così almeno so che vi arrivano i video E vi arrivano i video belli bellini Oggi ragazzuoli Dopo un bel po' No dopo un bel po' Voglio costruire Visto che ormai sono quasi 14 episodio Che vivo in questa catapecchia Che vorrei trasformare in un magazzino ufficiale Diciamo senza il letto Vorrei costruire una bella casetta Nel senso Una casettina Per farlo Ho suonato un po' nel nether Ho preso qualche blocco di quarzo Di sicuro non mi basterà Mai nella vita Mi serve del legno chiaro Cioè chiaro Mezzo e mezzo Che non ho Sì guardi se c'è Se avessi del legno Una Un'accetta bella potente Che fino ha fatto Non lo so Creeper schifoso Che esplodesse la vita Fatto kaboom Vabbè I creeper sono molto maleducati Ragazzi mi ha fatto saltare Per questo non voglio più Non voglio stare qua È un posto brutto Ci sono i creeper Nonostante che io illumini A giorno Ci sono i creeper Che rompono i gabasisi Ero convinto di avercela E invece no Vabbè Vado a vedere Se c'è un libro con efficienza Visto che ci siamo Ci metto efficienza Così almeno Sapete Comodo Più comodo E più veloce A spaccare il legno Che mi sa che qua Il legno chiaro Cresce come i funghi Porcini In un tempo di sole A caso Ora La mia casa Volevo farla Visto che comunque Qua è una parte Scusate il termine Materiali comunque Antichi Passatemi il termine Penso a episodi Volevo poi fare una sessione Di magari live Di cercare diamanti Per prepararci Ad andare a affrontare il dragon Per andare a prendere l'elitra Che comunque è molto comoda Non so nemmeno io Eh si Mi sa che devo appiattirla tutta E appiattiamola tutta No facciamolo qui dai Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Fallo sei Dai Uno Due Tre Quattro Cinque Ok Perfetto Andiamo a dormire Quasi quasi mi porto il letto dietro Che secondo me è più comodo Mi porto il letto Via con me Spero che si diventi bella almeno Allora si Come altezza dovrai esserci E qui Vorrei che ci fosse Qui Ok Molto molto bene Seguo un po' il contorno Ok Poi vediamo Allora qua Molto probabilmente Cosa ci potrei mettere qua Della pietra I mattoni O il quarzo Amica però Sprecare il quarzo Per quella Perché vorrei Metterci Almeno una finestra Di quelle belle grosse Poi magari qua ci faremo una piazza Visto che lì c'è la zona industriale Come se fosse La città vecchia Mettiamola così Qua c'è una gara Qua potremmo fare con le scalette Dovrei fare una crafting table Visto che ci siamo Facciamola Boom Così almeno Dove fare sempre Avanti andrei andrei avanti E con le scalette Di quarzo Vediamo se può diventare Caruccio Danfamene solo 8 Per il momento Una cosa così Ci potrebbe stare Anzi ci sta tantissimo E se però io adesso Metti caso che voglio Venire giù Non mi dici Attaccati a sta ceppa No Beh Ti dirò Ci stanno Eh magari Beh fare però tutto il contorno Mi sa che così è Ti dirò Che così Non è malvagia Non è malvagia Non lo so Boom 3 Vanno più che bene Magari ce l'avevo già Ma sono dettagli Qui Sempre ci mettiamo Il quarzo Ovviamente Bisogna far vedere Che abbiamo I big money Non è vero E ci mettiamo Una porta così Tipo portone del palazzo Ci sta Carino Bellino In effetti Sì ci può stare Ok Good E qua Ci faremo la stradina Ok Allora direi che Magari È solo che Però mi salverebbero Di più No ci sta Continuiamo È alto Uno O lo abbasso Perché secondo me È troppo alto Secondo me Se lo abbasso Diventa già qualcosa Di un po' più carino Vediamo un pochino Se abbasso Se abbasso qua il legno Secondo me Può diventare qualcosa Di bellito Ok Ho tolto una scala Non dovevo togliere La scala E segui qui Ottimus E metti il legno Che non c'ho più Dovevo svuotare l'inventario Sono disordinatissimo Ragazzi davvero Secondo me Già una cosa così Secondo me Secondo me Un po' più basso È già È già un'altra cosa In effetti Sì Preferisco così Very very good Allora Il davanti Direi che Sappiamo come farlo Ora facciamo La stessa cosa Quindi È un pilone Uno Due Tre Quattro Uno Due Tre E quattro Qui Siamo sempre qui Tanto io cadendo così Sto rompendo le cose Non vi preoccupate È tutto sotto controllo Qui è di nuovo La finestra È uno Due Tre È di nuovo tre Quindi Uno Due Entry Metti qua E ci mettiamo Ci mettiamo Dov'è il legnetto scuro No Il legnetto Perché dico il legnetto Il vetro scuro Che è un bel blocco Il vetro scuro Ed è alto tre Sono tipo vetroni Belli Ok Scalette dovrei averci No cinque A voglia A voglia Uno Due Ok tre Però che riprenda No voglio che riprenda Sempre lo stile Di quello lì Bello Mi piace Dai Ci sta Sta prendendo forma Chiudi qui E Lo chiudiamo Tutto così Ecco Il pavimento Ci faccio Qualche gioco Perché col quazzo Il pavimento Mi viene a costare Tipo boh Tantissimo Ok Ci sta Mi piace E visto che ci siamo Usa Due blocchi scuri Guardate qua Che tocco di bellezza Che vi do Due blocchi scuri Metti le foglie Ok E ci mettiamo Le trapdoor Devo andare a prendere No Magari posso anche farle Come è che si fanno Così Così esatto Uno Due Penso quattro Bastino Avanzino Quindi Due Et voilà Ok Famone altre Famone altre Tanto devo piazzare anche il letto Che sta diventando notte Trasforma un po' di queste qui Boom Boom Uno Due Ok Dormi Tipo vasino Ci sta Ora No Agli angoli Direi di non farla Sennò diventa troppo Troppo esagerata Siamo sempre qui Allora Il davanti ci sta Cioè Il davanti mi sembra Tanta roba Non so come spiegarmi A A stanze Ma a stanze Non troppo grandi Ma a stanze Tutte insieme Messe da qualche parte Scomposte Secondo me Non lo so Così O magari il legno Scusami Un dettaglio Il legno Ci potrebbe stare Scusami Dov'è il legno Che Sto finendo Porca vacca E vabbè Dai Andiamo a prendere altro Magari un dettaglio Il legno Così Non lo so Nemmeno io No Il dettaglio Il legno Così Non mi piace Ditemelo Voi Nei commenti Come volete Le pareti Così Perché Col quarzo Mi sembra Troppo Potente Ok E direi Che Magari La prima Stanza Ci potrebbe Stare Così Piccolina Ma Dà Il grande Effetto Mannaggia Boom E boom Ok E il tetto Qui Bella domanda Magari O con Legno Che Non lo so Non lo so Il tetto Qui Vedremo Ora Col quarzo Che sto Finendo Leggermente I blocchi O ci faccio Magari Il finestrale Laterale Anche qui Secondo me Con le finestrale Diventa Troppo Pesante Invece Così Il pavimento Un problema Magari È il pavimento Che non so Proprio Il pavimento Ho zero idee Sul pavimento Avrei bisogno Del vostro aiuto Tornare giù Povere Povere Ginocchia Boom Non mi basteranno Mai Quindi Trasformiamone Anche altre Trasforma tutto Vi so Che ci siamo Ok Andiamo a vedere Se qualche alberello È rinato Così lo ripiantiamo Va E Vorrei fare Anche la piscina Magari Qui Ci possiamo Fare Una bella Piscinetta Ce l'ho In mente Raga Piano piano Sta venendo In mente Come Come vorrei La struttura Con le slabettine Tac 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 Mi servono Altre Ne ho Altre Sì Le avevo fatte Quindi A voi Il culo Ci penseremo Poi a farlo A chiuderlo Ora qua Visto che ci siamo E mi è venuta in mente Questa idea Potrei Potrei Ricoprirla Tutto Con la Con la Terra Che ho E fare Mezza Mezza Piscinetta Perché Una villa È bella Noi siamo Trampe Ricordate che Trampe È pieno Di soldi Cos'è Una villa Non 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 la Faccio E La Mettiamo Così Però Mi è venuta in mente Un'altra idea La cosa bella Che quando Minecraft è bello Per questo Che quando magari Ti metti qua A fare Progetti O cose Così Ti vengono in mente Altre idee E le metti Insieme Magari Fare Una cosa Così Magari Non sarà La migliore Del mondo Però Amen Mi interessa Poco Ok Direi di fare Anche una cesta Va che Sto finendo Spazio Tutta la roba Che comunque Non ci serve Può dare E causa Fastidi Lingotto Questo 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 Ok E prendili tutti Va Vediamo un po' Come sono Secondo me Può essere Risulterebbe Particolare Vabbè Quelle ville Le ville Moderne Hanno comunque Dei Ghirigori In particolari Secondo Che ci sta Raga Boom Dormi Ok Allora Come idea Ci sta Ora voglio mettere Gli slabettini di quarzo Per definirlo Bene Bene Che comunque È una piscina Cioè Raga È una piscina Non è che Cioè Deve essere Mezza zona Piscina Mezza zona A fare cose Strane E belle Boom Allora Mi sa che poi Dovrò andare Nel ned A prendere Altro quarzo Perché qua Lo stiamo finendo Se ne va Ok Qua puoi Chiudere Ok Ora Tutta piscina Mi sembra Un po' esagerata Possiamo fare Questo Qui Come piscina Quindi qua Fai E figurati Mannaggia me Qui fai Altri slab Altri 12 slab Bello Dovrei fare Anche una scaletta Per andarci Ok Figurati se Zecco Dove Rompere E qui Faremo La piscinetta Ovviamente Dovrebbe essere Alta 3 E mi servirebbe Della luminite Perché Dà Un tocco Di bellezza O alta No Così mi sembra Ma ti dirò Anche così Va bene È troppo Nero No no Mi sembra Troppo Cioè È un nero Bello Acceso Mi sembra Un po' Eccessivo Su una casa Comunque Colori Chiari Vediamo un po' Ma mi sa Mi sa che so già È la risposta Che comunque No Poi vedo il calcestruzzo No Il calcestruzzo Minchia No è nero È nero No no Non mi piace È troppo Nero Proviamo a vedere Rosso Però mi sa Che devo aspettare Il vostro consiglio Ditemi Come Fare Un po' Fanno i fanni a pochi Giusto per vedere Solo come farlo Perché Non so Idea di come fare Il pavimento O con il legno Però il legno Mamma mia Mi sembra Me sembra Eh Magari il rosso E Ci può stare Ma anche se Rosso e bianco Non so Non so Non sono uno strista di moda Non so se il rosso e bianco Ci può andare bene Fammi vedere Ma Più del nero sicuro Possiamo farle magari a lati Possiamo fare magari qui rosso Ma proprio diventa un arlecchino Ragazzi mi serve il vostro aiuto Per il pavimento O con gli slab Che riprendo un po' Fuori E magari dici Eh Carino Ci sta Comunque il pavimento Per il momento Non c'è Qui Come abbiamo già detto Ci va una bella piantina Di quelle carine E mi serve Viola anche l'altro raptor Che qua Dove Mi servono le foglie Devo posare un po' di roba Usiamo un po' Prendi Foglie Posa roba che non mi serve Al momento Prendi del legno scuro Per fare le trap Come si chiamano Le 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 Questo qua scuro Boom 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 Ora non mi ricordo come si fanno L'avevo già fatta ma non mi ricordo Ok così Boom Fanno un paio Fanno 4 Servono sempre E qui È già Una cosa di arredo Prendi piano Lo sto anche arredando Quindi sono proprio un pazzo Maniaco Cioè Ci potrei perdere l'intera giornata E qui ci fai Una prima stanza Mettiamo così Però Mi dispiace Che qua Si perda il mattoncino Vabbè Ora terra Io Si qualche blocco Ce l'ho Meno male Così posso Fare il contorno Ovviamente non la farò tanto grande Perché ho sempre questa idea qua Delle stanze piccoline Ma efficienti 1 2 3 4 5 6 E sui due centrali Ci tolgo E ci metto Il vetro colorato Io sto Facendo così Con calma Boom E metti il vetro Scuro Allora qua Fai sempre così Il quarzo Qui tanto sta quasi Scarseggiando Mi sa che Non basta Mi sa che Per l'altra parte Dovrò andarlo a prendere Dovrò andarlo a prendere Mi sa di se Poi qui c'è il legno Che comunque chiude Qua un bel finestrone grosso E qui il legno che chiude Voilà Allora visto che ci siamo Potrei fare il contorno Con gli slab Lo so che magari Non è Bellissimo da vedere Spero di sì Mi devo dire Che sto finendo Ok Dovevo essere sincero A me sta iniziando A piacere Ovviamente Ma C'è Ce n'è ancora di lavoro Da fare qua A voglia Scherzi L'acqua Non so nemmeno io Se allargarlo No sono sceso Mannaggia Sorry Primo momento Vabbè Però allargarlo Farci tipo Un mega finestrone Così Non sarebbe Una brutta idea In effetti Ok Boom Boom E qua ci fai Un mega finestrone Ultra Mega Mega Figo Voilà Almeno A me sta piacendo Poi ho bisogno Di un vostro consiglio Per fare Pareti Però Devo essere sincero Che sta avvenendo Tanta tanta roba Sono contento Di come sta avvenendo Tutto improvvisato Sono contentissimo Sono sincero Ok Poi qua Non so nemmeno io Se magari Farci di nuovo Il contorno Come Qui Magari si Magari Non lo so ancora E qui Ci va di nuovo Il legno Poveri alberelli Li sto sfruttando Ok Questa qua È come se fosse La prima stanza Pa 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 Scendiamo Faccio Faccio Ok Tanto ragazzuoli È un minuto e tre Che sto registrando E sto Iniziando a Scarseggiare I materiali Allora Vediamo un po' Un attimo Dalla Lontananza Fai tipo Allora Devo dire Che a me Sta iniziando A piacere Ovviamente Di lavoro Ce n'è ancora Non lo nego Magari Qui però Una scalettina Per tornare Qui di sicuro Ci andrà Altro Quarzo Quindi Ok Direi Boh Ok Sto iniziando A finire Anche Roba E qui Ci Rimettiamo Di nuovo Però Non so Quanto Farla Lunga Vorrei Farla Magari Un pochettino Un po' Più Allora Ok Mi sembra Un po' Troppo Piccolina Però Magari Piccolina È giusta Vediamo È finito Anche il legno No Allora Vabbè Mettiamo Il quarzo Va Tanto Qui Finché Ok Una cosa Così Una cosa Qua c'è Una stanzetta Magari Qua potremmo Fare L'uscita Sul retro Che non Sarebbe Una brutta Idea Qui Magari Ci faremo Un piano Di sopra Spostato Ok Solo Che Non Mi Ispira Questo Stacco Ma Si Mi Ispira Ci Pu Stare Ora Ragazzuoli Per Questa Prima Parte Penso Se Apriamo Episodio Penso Che Così Vado a Recuperare Altra Pietra Altro Quarzo Altro Legno Per Questo Episodio Tutto Penso Che Nel prossimo Abbiamo La Finiamo Ditemi Come Finire Il pavimento Che Pavimento Zero Idee Per il Momento A Me Sta Piacendo Poi Considerate Che Magari Da Potremmo Farla Partire Da Quella Stanzetta Lì Da Quella Stanzetta Lì Potremmo Fare Un'altra Stanzetta Sopra Che Da Sul Mare Potrebbe Essere Una Bella Idea Comunque Ragazzuoli Per Questo Video Tutto Spero Vi Si è Piaciuto Vi 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 Lasciate Un Bell Pollicione In Su A Condividere Il Video Con I Vostri Amici Attivare Il Punzettino Rosso Premere La Campanellina Così Vi Arrivano I Video E Nulla Ditemi Come Fare Il Pavimento Ditemi Se Vi Piace Se Ci Possono Migliorare Le